Cosa? Cosa? Siete già qua? Ah, ok. Ricominciamo tutto da capo. Ok. Un ciao a tutti voi da Stellina. Ho una notizia. Ho bisogno di informarvi di una notizia. Come sapete, Angela Quiroga non fa molti video su NoisLage, ma questo può cambiare grazie a voi. Ci serve la vostra opinione se volete farci saltare, se volete, se volete, se volete, scusate, scusate che ho appena mangiato l'erba, quindi parlare mi sia un po' difficile. Se volete, volete vederci saltare o possiamo farne a meno? Speriamo di farne a meno. Ok, non avete sentito niente, vero? Bene. Ok, ci serve la vostra opinione, quindi se avete visto questo video mi farebbe un grandissimo favore che voi commentiate dicendo se volete un video su Noi o possiamo farne a meno. Ok, un salutone da Stellina. Fine del video.